Ben trovati, buongiorno. Martedì 13 settembre, consiglio di appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa che apriamo con il santo del giorno. Si tratta di San Giovanni Crisostomo, bocca d'oro per la sua meravigliosa eloquenza. Nacque in Antiochia, in giovane età fu privato del padre, gli rimase la santa genitrice che ad altro non pensò se non ad adempiere fedelmente tutti gli obblighi di una madre. Il Crisostomo studiò retorica e filosofia sotto la scorta dei migliori maestri del suo tempo e fece progressi tali che lo stesso suo insegnante ne rimase meravigliato. Il vescovo di Antiochia, Melezio, conoscendo le rare qualità del Crisostomo, lo ordinò lettore. Flaviano, successore di San Melezio, lo innalzò al sacerdosio con l'incarico di predicare la parola di Dio, ufficio che Giovanni compì con zelo infaticabile. Egli spiegava le scritture con molta chiarezza e propria età. 12 anni continuò nel suo ufficio quando venne a morire il vescovo di Costantinopoli in ettario. Nell'elezione il pensiero corse subito a Giovanni che a voce di popolo fu eletto successore il 26 febbraio dell'anno 398 avendo pubblicamente ripreso dal pulpito alcune colpe dell'imperatrice. Questa se ne volle vendicare, lo fece quindi arrestare e radunò il consiglio per escogitare cosa fare al Crisostomo. Chi proponeva l'esilio, chi la morte, chi la prigione perpetua e chi altro. Finalmente uno che conosceva l'animo del santo disse quanto avete proposto, altro non serve che a rallegrare il vescovo con una sola cosa voi potete fargli del mare. Si decise così di esiliargli in Bitinia. La notte appreso vi fu in Costantinopoli un terribile terremoto che tutti riguardarono come un effetto della collera divina. L'imperatrice medesima si spaventò e scongiurò l'imperatore a richiamare il santo vescovo. Tornò Giovanni in mezzo al suo popolo ma per poco tempo perché i suoi nemici non desistettero e tanto fecero che l'imperatore fu costretto ad esiliarlo nuovamente. Giovanni per l'avanzata età e per gli strapazzi del viaggio a stento poter arrivare alla città destinata il giorno dopo. Il signore lo chiamò a sé. Era il 14 settembre del 407. Varie e pregevolissime sono le opere scritte da lui e la chiesa. Lo dichiarò dottore San Giovanni Crisostomo che viene ricordato oggi il 13 settembre dalla Chiesa Cattolica. Apriamo allora la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine, le prime quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Partiamo dall'edizione di Pescara per vedere quali sono i titoli principali, gli argomenti trattati nell'edizione odierna del Centro. Vediamo allora la prima pagina, ancora un secondo e la visualizziamo proprio sul nostro tablet. Alunni autistici rimandati a casa, ecco qui il titolo principale. Si parla di scuola, la riapertura proprio nella giornata di ieri, i due casi segnalati in due scuole di Pescara e Francavilla. Poi la fotonotizia potete vedere a centro pagina riguarda il Pescara. Si torna a parlare della bella ma sfortunata prova a livello nazionale con gli elogi proprio da parte della stampa nazionale. Della bella prova del Pescara sfortunato e sconfitto per 2-1 lo stadio adriatico dall'Inter. E poi vediamo nelle cronache, l'ACA paga i primi 6 milioni del maxidebito e poi i bracconieri uccidono migliaia di pesci. E infine occupa una casa con il suo bimbo, subito sfrattata. Poi vedete il titolo in taglio basso della prima pagina del Centro, edizione di Pescara. Cari Chieti partono i rimborsi, investimenti sfumati, indennizi a 700 risparmiatori. Questa dunque è la prima pagina del Centro, edizione di Pescara. Andiamo a vedere insieme, lo faremo tra qualche istante, l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto. Come sempre vedremo anche le altre edizioni del quotidiano d'Abruzzo, tornato oggi in edicola dopo alcuni giorni di sciopero. Allora vediamo la prima pagina del Centro, edizione di Chieti, Policlinico, taglio da un miliardo. Chieti, il nuovo progetto della Maltauro costa un terzo in meno, ma i posti letto restano 498. E poi riaprono le scuole a lama dei Peligni, alunni accompagnati dagli asinelli. Vedete questa bella foto che riguarda proprio il centro in provincia di Chieti. E poi le cronache, fiamme domate in una stanza dell'ospedale, è accaduto proprio al Policlinico del capoluogo Teatino. E poi singolare sentenza, riassunto perché malato di videopoker, è accaduto a Lanciano. Invece a Vasto si parla di trasporto pubblico, di fonso in veste. Ecco 12 nuovi autobus per i pendolari. E poi ad Ortona, vedete il titolo sotto la fotonotizia, Casillo acquista il molino Alimonti, che passa dunque ai pugliesi per quasi 6 milioni di euro. E dopo aver visto l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto del centro, andiamo, proseguiamo con le prime pagine del quotidiano d'Abruzzo. Siamo all'edizione di Teramo, anche in questo caso vediamo i titoli principali dell'edizione Teramana. Si parla di lavori, lavori che riguardano la città di Teramo. Scatta l'esposto, lo presentano i commercianti in procura per denunciare la sovrintendenza, che blocca le opere. E poi il calcio in primo piano nell'edizione di Teramo del centro, perché turno infrasettimanale questa sera in Lega Pro, con i biancorossi ancora a secco di vittorie, che tornano al Bonolis dopo la sconfitta dell'ultimo turno. Per affrontare il Modulo e Zauli cambia formazione per cercare di conquistare la vittoria. Allora, vediamo anche i titoli che riguardano la cronaca. A Teramo ragazzi autistici lasciati per strada, non c'è il pulmino. E poi usura accuse ai capi della BCC dell'Adriatico per un conto corrente. Poi Don Domenico allontanato, fedeli in rivolta al Duomo di San Flaviano. E poi la cronaca, ustionato dal forno a legna, grave. Un 61enne Teramano lo aveva acceso usando dell'alcol. E chiudiamo per quanto concerne le prime pagine del centro, con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Poi passeremo a dare uno sguardo ai titoli dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Allora, si parla dell'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona del centro. La notizia riguarda un suicidio, un suicidio per problemi di lavoro, teme per il lavoro e si toglie la vita. La vittima è un 38enne, scusate, padre di due figli. Era certo che non sarebbe stato confermato da una cooperativa. E poi sicurezza a scuola, continua la battaglia delle mamme, Avezzano. La questione finisce in TV e poi in Marsica, Tagliacosso, usa Facebook dai domiciliari e finisce in Cella. Sempre nella Marsica, questa volta a Trasacco, ex alpino muore di infarto durante un'escursione. E poi il calcio di Serie D, si parla dell'Avezzano e dell'Aquila. L'Avezzano vince, sale in vetta, domenica scorsa, secondo successo su due gare per i Biancoverdi che hanno sconfitto per 1-0 il Flaminia. Bene anche l'Aquila, formazione rosso-bru, che è andata a vincere in trasferta. E poi la cronaca, l'importante operazione ieri a Sulmona, sgominata la gang dell'usura. Sulmona, finte aziende, prestiti a strozzo. Nove gli arresti. Allora lasciamo le prime quattro edizioni e le prime quattro pagine delle quattro edizioni del centro. Andiamo a vedere, come vi dicevo, i titoli principali dei quotidiani nazionali oggi in edicola, per vedere anche in questo caso quali sono gli argomenti presi in esame. Possiamo partire dal primo titolo, eccolo qui, il Corriere della Sera. Prima in pensione, così le regole. Padoan, rientro di capitali, un altro piano da 4 miliardi. In Lombardia, al Via Equitalia, dunque Previdenza, si potrà lasciare il lavoro a 63 anni. Ovviamente potrebbe essersi davvero una vera e propria partecipazione di molti lavoratori, soprattutto del comparto statale. a questo, se così possiamo dire, prepensionamento, si potrà andare molto prima del previsto, in pensione, a 63 anni. Poi l'incognita Ilari, campagna sospesa, si parla degli Stati Uniti, delle condizioni di salute del candidato, della candidata democratica, che ha sospeso la campagna elettorale per dei problemi. E poi, vedete la foto notizia, ora anche il classico a Ilaic, si parla del primo giorno di scuola, ovviamente, in molte regioni, fra cui l'Abruzzo. E siamo al quotidiano, la Repubblica, cresce il lavoro, pensioni intesa con i sindacati, Bersani oggi sull'Italicum, voterei no. E poi il Movimento 5 Stelle, Fronda contro Di Maio, troppi errori. E vedete anche su Repubblica, si parla dell'inizio dell'anno scolastico, professori, concorsi, aule, formazione, ecco la scuola che vogliamo. E poi vedete di spalla il titolo che riguarda i rifugiati in Puglia, il governo fermi, l'inferno del cara di Foggia. Siamo al Fatto Quotidiano, Renzi, Morgan e la BCE piazzano l'impresentabile Montepaschi, questo il titolo del Fatto Quotidiano. Si parla ovviamente di banche, Morelli, nuovo amministratore delegato, stracciate regole e procedure, scrive il Fatto Quotidiano. E poi vedete caldo, pardon, polmonite, come sta davvero Ilari, si parla delle condizioni di salute della candidata democratica alla presidenza USA. E poi in alto, vedete raggi, ecco cosa ha fatto in due mesi a Roma, siamo ovviamente a parlare delle vicende del Campidoglio. E poi ricostruzione, usate macerie, con amianto post terremoto, questo il titolo che troviamo sempre sul Fatto Quotidiano. Andiamo avanti, il messaggero, pensioni, ecco chi può anticipare, intesa vicina tra governo e sindacati, niente oneri per i disoccupati, con assegno fino a 1200 euro. E poi Ilari, la polmonite allarma agli Stati Uniti, Biden si prepara a scendere in campo. E poi si parla di Italicum, la consulta pronta a rinviare a dopo il referendum. Proseguiamo con il tempo di Roma, sindaca sull'orlo di una crisi di nervi, la Raggi cede allo stress. Sotto casa filma i giornalisti e li attacca, mi fate pena. Il vice frongia, se vi avvicinate attenti ai miei cani, ecco i 100 errori di Virginia. Questo è il titolo principale del tempo. E poi vedete la fotonotizia con l'intervista al sindaco Pirozzi, sindaco di Amatrice. Amatrice riparte, io non sono un mostro sindaco di Amatrice Pirozzi, che avevamo portato anche ai nostri microfoni qualche giorno fa in occasione dei funerali delle vittime del terremoto proprio ad Amatrice. Siamo al quotidiano il manifesto, ovunque vada questo il titolo del quotidiano di sinistra. Ieri a Napoli, come domenica a Catania, il presidente del Consiglio infila una contestazione dopo l'altra, contestato a Napoli ieri, contestato anche domenica scorsa a Catania. Parliamo del premier Matteo Renzi che dice, cambiando argomento, il Job Act funziona, ma a luglio l'occupazione cala. Siamo al quotidiano il mattino di Napoli, il tenorissimo, questo titolo che riguarda il tripudio di Jonas Kauman in un San Carlo teatro di Napoli. Poi scuola, spese fuori dal patto dell'Unione Europea. Poi c'è anche un titolo che riguarda la Champions League del Napoli, in questo caso trattandosi del mattino, la prima di Sarri. Divertiamoci questa sera, gli azzurri campani giocheranno con la Dinamo di Kiev. Siamo all'unità, la strategia della pensione, tre anni e sette mesi di sconto per chi ha 63 anni e nessun costo per le categorie più deboli. Dunque si potrà andare in pensione a 63 anni, questo è uno dei titoli principali che ritroviamo oggi sui quotidiani nazionali in edicola. E poi inchiesta sulla vita agra dei sacerdoti, preti e uccelli di Rovo. Dopo l'ultimo scandaletto di Treviso, dove un religioso si innamora di una ragazza e vuole lasciare la chiesa, si ripropone il problema, leggiamo qui dalle pagine di Libero, il matrimonio delle tonache, una su cinque molla, per lo più per questioni di cuore. E poi si parla di immigrazione, hanno un piano per arginare i profughi, vedete i tre come sono denominati dell'Ave Maria, Presidenti di Regione Zaia del Veneto, poi c'è il Presidente Maroni della Lombardia e c'è anche il Presidente della Regione Liguria, che hanno steso un patto per affrontare l'emergenza profughi. E poi andiamo avanti, la stampa di Torino, tasse rinviato il taglio dell'IRPEF, Padoan se ne parla, dice il Ministro, nel 2018. E poi il titolo che riguarda il Salone del Libro, dopo la guerra fra Torino e Milano ci sarà un solo Salone del Libro, che proprio unirà le due città. E siamo al quotidiano, l'avvenire, uscita di guerra, scatta in Siria il cessato il fuoco, segnali positivi, in Libia ora il rischio di una spaccatura del Paese, anche sul quotidiano della CEI, vedete il titolo che riguarda questa notizia, in pensione a 63 anni, ma le tasse non calano. Siamo al Gazzettino di Venezia, mutui soci, multata la Popolare di Vicenza. E poi in taglio basso, a 63 anni, la pensione anticipata. C'è anche il prestito aziendale. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. L'Italia dei prepensionati, verso l'anticipo di 3 anni e 7 mesi nella fuoriuscita dal lavoro, aumentano gli occupati. Renzi, il Presidente del Consiglio, dice che il Job Act sta funzionando. Siamo all'osservatore romano, il quotidiano della Santa Sede. Pace per il Gabon. Questo è il titolo principale che riguarda l'osservatore romano, che poi focalizza l'attenzione anche nella penisola coreana. Massima tensione dopo gli esperimenti nucleari della Corea del Nord. Questo era l'ultimo quotidiano preso in esame per quanto riguarda la nostra edicola nazionale. Possiamo tornare sul quotidiano Il Centro per iniziare a vedere le pagine che riguardano la nostra regione, poi le nostre province. Vediamo la prima pagina. Si parla di scuola, concorsone e docenti, ricorso collettivo dei bocciati agli iscritti. E poi altri titoli. In basso, l'aeroporto chiuderà per lavori, stop di dieci giorni a novembre. Quando il traffico è più basso, riqualificazione della pista, dello scalo abruzzese. E poi, tornando a parlare di scuole, occorre un piano di intervento. Lo ha detto ieri il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Gianluca Vacca, dice troppe scuole non a norma antisismica. Noi allora andiamo a vedere nel primo servizio che vi proponiamo questa mattina, proprio ad ascoltare le dichiarazioni del parlamentare pentastellato al microfono di Francesca Romana Testi. Un quarto delle scuole abruzzesi non è a norma. E' questo il quadro che emerge dal sito del Ministero dell'Istruzione, chiamato Scuola in chiaro. Dati aggiornati al 2016. La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle, che spiega in dettaglio la situazione suddivisa per zone sismiche a basso rischio, medio e alto. Abbiamo analizzato i dati di tutte le scuole abruzzesi presenti su questo sito, appunto del Ministero, l'anagrafe scolastica, dove tutti i genitori, anzi tutte le famiglie e tutti gli operatori possono andare a controllare, che sono dati forniti al Ministero, ma su ovviamente impulso degli enti preposti alla manutenzione degli edifici scolastici, quindi comuni e province. e dai quali risulta appunto che un quarto delle scuole abruzzesi, soltanto un quarto è a norma, quindi circa il 24%, mentre il restante non è adeguato secondo la normativa antisismica. Secondo il Movimento 5 Stelle, i dati potrebbero non essere tutti attendibili, come nel caso di istituti che da poco hanno portato a compimento lavori di adeguamento. Restano però insufficienti i fondi messi a disposizione dal Governo per i lavori necessari. Qua c'è bisogno di un piano di intervento adeguato, con dagli 8 ai 10 miliardi in pochi anni, per rimettere innanzitutto a norma, ma soprattutto per rendere adeguate e sicure le nostre scuole. Non è possibile in un paese civile come l'Italia, e una regione come l'Abruzzo, i nostri ragazzi vadano a scuola con una situazione del genere, con il rischio appunto che le scuole non siano neanche sicure, con il luogo sicuro che dovrebbero, quali dovrebbero essere. Vediamo la prima pagina del centro del messaggero Pardon nell'inserto Abruzzo, scacco alla holding dell'usura, parliamo dell'operazione che ha portato ieri a nove arresti a Sulmona, l'accusa prestavano a strozzo i soldi ottenuti dalle banche, con una società fantasma, e poi fisco e mazzette, il dirigente subito ha processo, e poi uomo con la pistola, panico alle giostre, siamo a Lanciano. Andiamo ancora avanti, e vedete ritroviamo proprio il titolo che riguarda il servizio che vi abbiamo appena proposto, al Movimento 5 Stelle, che dice a rischio sisma una scuola su quattro, lo dice lo stesso Ministero, e poi lavoro boom dell'occupazione al traino di Industria e Servizi, e poi in basso, addio commissariamento, il 15 la conferenza Stato-Regioni, giovedì l'ultimo passaggio formale della procedura, prima della firma del decreto del Premier Renzi. Allora possiamo vedere, iniziare a vedere le prime pagine, prima di parlare di meteo, con le prime pagine del messaggero, partiamo da Pescara, ancora scuole in primo piano, bocciato il piano traffico, mancano segnaletica, informazioni, falsa partenza per l'isola pedonale, a tempo, davanti alla scuola Mazzini, e poi lo slalom dei ragazzi, tra auto e biciclette, in via Militegnoto, senso unico e ignorato, auto in tutte le direzioni, è sosta selvaggia, lavoro in corso, il sindaco di Pescara, Alessandrini, promette tempi rapidi, per la scuola Pascoli, dove sono in corso, lavori di adeguamento, e poi prezzi più bassi, e menu online, la buona notizia, arriva dalle menze, perché il nuovo servizio, menze delle scuole, debutterà il 3 ottobre, il costo medio di un pasto, scende a 3,50 euro, ancora Pescara, bottigliate nella notte, la movida in centro, sempre più violenta, e poi Pescara Abruzzo, compra casa, nuova sede, per la scuola del design, acquistata dalla fondazione, l'ex palazzina delle ferrovie, di proprietà di Daniele Sebastiani, che ovviamente come tutti sapete, è il presidente, anche il presidente del Pescara, e poi altri titoli, ACA, revisoria al comando, all'Ersi arriva a Leonbroni, bando in arrivo per il CDA, il manager sostenuto da D'Alfonso, verso il ruolo di commissario, allora noi nel prossimo servizio, andiamo a vedere quello che si dice all'ACA, sono giorni importanti, anche per il rinnovo del nuovo CDA, della nuova governance, vediamo dunque il servizio. Ancora polemiche sul caso ACA, a due giorni dal rinvio, a data da destinarsi, della prossima assemblea dei sindaci, per le elezioni della nuova governance, il desidio ora è quello tra chi vorrebbe provvedere, alle elezioni di un nuovo amministratore unico, e chi invece vorrebbe tornare, alla vecchia formula del consiglio d'amministrazione, la spaccatura si divide tra centro-destra, che ricorda il risanamento, operato proprio dalla scelta di un amministratore unico, e nello specifico l'uscente Vincenzo Di Baldassarre, e il centro-sinistra che chiede di cambiare governance. Noi siamo molto perplessi, non riusciamo a capire perché si è voluto cambiare, innanzitutto, la forma di governo. L'amministratore unico, negli ultimi tre anni, aveva dimostrato di lavorare meglio, lavorare di più, costare di meno per le casse pubbliche. Invece, una parte del PD, e purtroppo anche una parte del centro-destra, legasi nuovo centro-destra, opta per riaprire il cosiddetto poltronificio. CDA non significa naturalmente un aumento di spesa, perché il CDA costerà come l'amministratore unico, ma occorrono professionalità trasversali per affrontare queste nuove sfide. Tanto per dirne una, a fine anno scade l'affidamento del depuratore in capo ad un soggetto privato, detto affidamento tornerà in capo ad ACA, ed è evidente che questa infrastruttura così importante, sulla quale, come è noto, sono in corso lavori e approfondimenti per la sua estensione, richiede professionalità all'altezza. Ancora un titolo dal messaggero, prima di parlare di meteo, Morosini, duello finale tra accusa e difesa, riprende oggi a Pescara il processo, ai tre medici accusati della tragica fine del calciatore del Livorno. Allora noi ci fermiamo per quanto riguarda le pagine del messaggero, parliamo invece di meteo con il nostro Giovanni De Palma, che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, sono gli ultimi giorni dell'estate meteorologica, il 21 settembre arriverà l'autunno, tempo che negli ultimi giorni è stato piuttosto capriccioso, cosa ci dobbiamo invece attendere per le prossime ore. Paolo, scusa se mi permetto di correggere, il 23 settembre arriva l'autunno, non me ne volerei. Hai ragione, hai ragione, è il sonno. Battute a parte, scherzo Paolo, lo sai benissimo. La situazione meteorologica è caratterizzata ancora dall'instabilità. Ieri abbiamo avuto addirittura un temporale veramente molto intenso, davvero molto intenso, sfilato a pochi chilometri dalla costa, che ha favorito anche dei rovesci inattesi lungo la fascia costiera. Un temporale davvero molto intenso, che poi però si è attenuato con il passare delle ore, ma si sono sviluppati temporali invece sulle zone interne e montuose. Temporali che hanno poi interessato anche la Marsica e l'Aquilano. Nelle prossime ore, dopo un inizio di giornata caratterizzato da nuvolamenti sul settore orientale e sulla fascia costiera, mentre in condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso, si manifesteranno sulle zone interne altocollinari e montuose. Però attenzione, perché nel corso del pomeriggio, Paolo tenderanno a svilupparsi dei rovesci e dei temporali, soprattutto sulle zone montuose, però poi complici le correnti favorevoli. Questi fenomeni tenderanno ad estendersi verso il settore occidentale della nostra regione. Quindi attenzione ai temporali, che potrebbero manifestarsi ancora nella giornata di domani, soprattutto nella seconda parte della giornata. L'instabilità è stata la caratteristica di questo fine settimana, ma anche della settimana scorsa. Insomma, una situazione lunga a scomparire, questa instabilità. La instabilità tenace, che però sarà sostituita, Paolo, dall'arrivo di perturbazioni atlantiche. Quindi se da un lato l'instabilità si attenuerà nei prossimi giorni, dovremo fare i conti però con l'arrivo di sistemi nuvolosi di origine atlantica, che è pur vero che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali e il settore tirrenico, ma da giovedì, da mercoledì sera, ancora più nella giornata di giovedì, assisteremo al transito di un sistema nuvoloso anche sulla nostra regione, che ovviamente sarà più attivo sul settore occidentale, dove probabilmente produrrà dei fenomeni. Insomma, una situazione tipica autunnale, diciamo così, perché le perturbazioni atlantiche ormai iniziano pian piano ad essere più frequenti sulla nostra penisola e così sarà anche nei prossimi giorni. Quindi anche se poi è difficile sapere che tempo farà poi nel fine settimana, è ancora un po' presto, ne riparleremo con calma, però non nel corso dei prossimi aggiornamenti a tempo. Un flash, Giovanni, prima di salutarci, per quanto riguarda invece le temperature, cosa ci dobbiamo attendere? Temperature restano di nuovo, tutto sommato, stazionarie. Ovviamente rispetto ai giorni scorsi ci sarà un lieve aumento, soprattutto nei valori massimi, complice il maggior soleggiamento, perché nei giorni scorsi c'è stata una presenza di una diffusa copertura nuvolosa, quindi che ha impedito il riscaldamento ad opera del sole. Questa è la caratteristica del punto di vista delle temperature, avremmo un valore tutto sommato in linea o leggermente al di sopra delle medie stagionali, senza differenze sostanziali, sia nella giornata odierna, sia nella giornata di domani. Quindi in grosso modo stazionale, soltanto magari un leggero aumento delle temperature, soprattutto nei valori massimi, in particolar modo sulla fascia orientale della nostra regione. Pasqua, Paolo. Perfetto, grazie, grazie Giovanni De Palma, appuntamento a domani nel corso di Mattino 6. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Per restare informati vi ricordo www.abruzzometeo.org, ecco qui il sito inquadrato con tutte le informazioni in tempo reale, le notizie che riguardano proprio la situazione meteo della nostra regione. E poi vi ricordo anche la pagina Facebook di Giovanni De Palma, altro utile strumento per restare, per rimanere sempre informati sulla situazione del tempo e sulle previsioni meteorologiche. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo in studio, come sempre, per la seconda parte di Mattino 6. Seconda parte di Mattino 6, torniamo alle pagine del messaggero, eravamo alla cronaca di Pescara, Fisco e Mazzette, subito il processo, giudizio immediato per il dirigente dell'Agenzia delle Entrate, filmato mentre intasca una bustarella. E poi colpo grosso alla Deco, ladri in fuga con due camion per i rifiuti, e poi missione compiuta, la Croce Rossa di Cepagatti, lascia a Cumoli uno dei centri più colpiti dal sisma del 24 agosto scorso. E poi rullino i tamburi, al via il festival delle percussioni, e poi lo studio, la nascita del buco nero, nello studio dell'Icranet, il centro scientifico che si trova a Pescara. E a proposito di scienza, scienziati e studenti alla giornata proprio della scienza organizzata dal Rotary di Pescara. Proseguiamo, siamo alla pagina dell'Aquila, i prigionieri della zona rossa, casa agibile ma non raggiungibile, e poi una targa restituisce dignità a chi fu nascosto dalla storia. Giovanni Natale e Pasquale Vitocco furono uccisi dai tedeschi durante l'operazione quercia della Seconda Guerra Mondiale. E poi peculato a giudizio funzionario dell'Agenzia delle Entrate. E poi procuratore, il CSM indica Michele Renzo, che proviene da Ascoli e Piceno. Andiamo ancora a fondo pagina. Porta Barete prosegue il processo contro i comunali Fabrizi e Bolino. e poi Roio Poggio, la pensilina per giocare a carte. Vedete questa foto. Ancora pagina dell'Aquila. Masp tranquilla la prima campanella. I genitori rassicurati rispetto ai timori delle scorse settimane causate dall'effetto sisma di Amatrice. Poi a San Sisto, il primo istituto pubblico, che utilizza il metodo Montessori. Ha scoppito gli alunni trasferiti al centro polifunzionale. Poi Parco del Castello, Amatriciana, di solidarietà. Un successo per questa iniziativa proprio solidale verso le popolazioni colpite dal terremoto. E poi in basso, Don Natale Mariani, il sacerdote eroe da romanzo, che a Tione sfidò i tedeschi, e la case del fascio. E poi Jets raccolti, 15 mila euro, ma c'è il nodo dei contributi. Due sponsor devono ancora versare i 12 mila euro pattuiti. E siamo alla pagina di Avezzano Sulmona. Imprenditori del crimine. Nove arresti. Un'intera famiglia si era inventata a due aziende fantasma per chiedere fondi da reinvestire nel mercato dell'usura. Indagate 11 persone. Si tratta per lo più di disoccupati, disperati e tossicodipendenti che risultavano stipendiati. Ecco come è stato fatto il salto di qualità. E noi andiamo a vedere nel servizio di Alfredo Primante proprio i dettagli di questa operazione. Acquisivano società in perdita gonfiando nei bilanci e facendo assunzioni fittizie per ottenere prestiti in favore dei dipendenti cui proventi venivano poi reimpiegati anche per attività di usura. Una struttura ramificata capeggiata dalla famiglia Rom De Rosa che si avvaleva di un consulente economico anche egli a capo dell'organizzazione è stata smantellata nell'operazione portata a termine dalla procura di Sulmona e dai carabinieri Peligni assieme a quelli di Montesilvano, Chieti e Vezzano e Castel di Sangro. Questa mattina infatti sono scattati gli arresti su ordine del GIP del Tribunale di Sulmona per nove dei venti indagati, sei in carcere e tre ai domiciliari. Parallelamente c'è stato il sequestro preventivo di una villa di 15 vani e 4 terreni a Rocca Casale in provincia dell'Aquila per un valore di oltre 500 mila euro. I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa, usura, estorsione, falsità ideologica e sostituzione di persona. Il meccanismo che avevano messo a punto era molto raffinato, acquisire società inattive mettendo a posto i documenti ufficiali, renderle floride, aumentandone il capitale in maniera da apparire solvibili agli occhi degli istituti di credito e poi assumere fittiziamente dei dipendenti per lo più tossicodipendenti o piccoli pregiudicati per far loro chiedere credito al consumo con la cessione del quinto dello stipendio che si aggirava mediamente sui 2.500 euro. Successivamente alle prime rate pagate o il dipendente veniva licenziato oppure non pagava più innescando il recupero dei crediti senza far scattare la denuncia per truffa. E' così che sono riuscite ad ottenere circa 600 mila euro in poco più di un anno operando su due società la RZ Elettronica e la Sapori del Fucino. I soldi poi venivano utilizzati anche per mantenere attivo il giro d'usura della famiglia Rom ed è proprio da qui che è partita l'indagine dei carabinieri di Sulmona che inizialmente avevano scoperto una quarantina di imprenditori di tutta la regione taglieggiati con interessi anche superiori al 50% al mese. In tutto un giro che solo nel periodo delle indagini partite a fine 2014 dalla denuncia di un commerciante sulmonese ha fruttato circa 500 mila euro. Ci sono imprenditori che avevano difficoltà e anche questo la difficoltà del territorio è un aspetto importante di queste indagini? Beh sì questo è evidente un territorio che comunque ha insofferenza economica che determina per questi soggetti spesso una difficoltà di accesso alle linee legali del credito e quindi spesso sono vittime di questi soggetti che operano in maniera professionale sostanzialmente sul prestito usurario approfittando appunto delle condizioni di difficoltà economica e di accesso conseguenziale al credito di questi soggetti. Questo è il servizio sull'operazione dei carabinieri a Sulmona alunni in classe al completo ma non calano le tensioni siamo in Marsica e poi ancora in Marsica ad Avezzano con la cronaca subisce una rapina in casa per il trauma rifiuta il ricovero urgente in ospedale poi a Sulmona scuole obiettivo evitare o limitare i doppi turni e siamo alla pagina di Chieti del messaggero Maltauro fa dimagrire il progetto dell'ospedale poi stadio del nuoto riapertura dopo l'estate dei record e poi la cronaca cocaina nascosta nello scarico del WC arrestati barista figlio e due socie e poi ancora la pagina di Lanciano va stortona in questo caso partiamo da Lanciano c'è un uomo armato panico alle giostre misterioso episodio alle 22 di domenica in piazza d'amico i papà e le mamme ha sfoderato la pistola poi è scappato sempre a Lanciano notte bianca nessun dorma fuochi e banda alle 4 di mattina e poi ad Ortona Molino a Limonti a Casillo per quasi 6 milioni di euro vasto il tar via i vasi antiauto in centro sempre a vasto rifiuti contestati Marchesani e Marcello a Lanciano Madonna delle Grazie nuova corona per la statua e siamo alla pagina di Teramo io eroe miracolato ho salvato la mia famiglia ed un prete polacco Pierpaolo Ciarrocchi noto restauratore rimasto sotto le macerie il 24 agosto dunque c'è questa storia che viene raccontata proprio accaduta pochi giorni fa in occasione proprio a poche ore dal terribile sisma che ha colpito il Lazio e le Marche la porta bloccata è stato l'ostacolo più difficile da superare sotto shock e poi l'emergenza scuole è un argamento collegato proprio al sisma del 24 agosto scorso oggi è previsto un nuovo incontro tra il sindaco Brucchi e i genitori dei ragazzi e poi Corso San Giorgio lavori in ritardo negozianti dai PM andiamo in basso teatro comunale un piano B per garantire la stagione di prosa e poi accende forno a legna resta ostionato un uomo di 61 anni di Villa Tordinia trasferito nel centro specializzato dell'ospedale Bufalini di Cesena e siamo alla pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata lascio per curarmi il vescovo non c'entra il parroco del Duomo Don Domenico Panetta è stato destinato a Morrovalle e poi a Lappiano ed ora stempera le polemiche la curia ha disegnato l'identikit del probabile successore Don Leonardo Bux nominato due volte priore dei benedettini e poi Giulianova ha costituito il flag Bretoni presidente poi il disservizio ambulanza 40 minuti da Giulianova a Mosciano Sant'Angelo siamo in Val Vibrata il progetto del nuovo casello fa infuriare gli ambientalisti e poi ad Alba Adriatica a scuole tutto ok anche alla Duca da Osta siamo a Roseto Montepagano mancava anche il codice siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere le pagine invece del quotidiano il centro e poi della città di Teramo ripartiamo dal centro e ripartiamo ancora da Pescara gli indennizzi ai risparmiatori carichietti via i rimborsi per gli investimenti sfumati poi si torna a scuola menze servizio appaltato la partenza il 3 ottobre e poi nuove regole per la viabilità davanti agli istituti e poi non ci sono gli assistenti a casa gli alunni autistici denuncia di due genitori comune in ritardo con le nomine noi dicono presi in giro a fondo pagina il Dascanio resta senza palestra i rappresentanti degli studenti i lavori promessi dicono non sono mai iniziati l'ACA paga i primi 6 milioni di debiti in partenza i versamenti a dipendenti ed enti previdenziali di Baldassar esce di scena al suo posto torna il CDA e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari dice guerra di potere e favori nel PD così è ritornato il partito dell'acqua e poi in basso nuovo divieto di balneazione in un tratto di spiaggia pescarese dopo la pioggia delle ultime ore poi case popolari senza manutenzione canali di scolo spezzati muffa sui muri in via Nora proseguiamo ancora Pescara mezza tonnellata di pesci intrappolati e uccisi da una rete poi la cronaca presa la ladra che ruba portafogli in ospedale nei guai 42enne proseguiamo ancora cronaca di Pescara rubati due camion della Deco ladri in azione in via Raiale poi progetto del conservatorio per l'ex scuola di via Saffi e poi nonna Emiliana Brandimarte taglia il traguardo di 103 anni e poi la solidarietà terremoto raccolte 10 tonnellato di cibo da aziende pescaresi e poi il parroco trasferito trasferito sì don Massimiliano lascia la chiesa di Fontanelle e siamo alla pagina di Montesilvano storia di disperazione mamma 18enne cacciata con il bimbo dalla casa popolare la ragazza aveva occupato abusivamente un appartamento ripristinata la legalità per lei l'unica soluzione è la strada e poi sigilia l'ex casa del custode del cimitero murati tutti gli accessi del rifugio dei disperati e poi sulla vicenda della mamma 18enne c'è l'intervento del vice sindaco di Montesilvano De Martinis che dice l'ater assicura che avremo presto sei nuovi alloggi e poi sorpreso a rubare due volte in un'ora la vigilanza lo scopre da acqua e sapone e lui tenta il furto al LILD arrestato pagina ancora di Montesilvano e dell'area metropolitana di Pescara in questo caso siamo a Spoltore rinasce la scuola Lighieri dopo un anno di lavori ancora Montesilvano Educals premi a Tiboni e alla memoria per Bernabei proseguiamo pagina di Francavilla in questo caso ancora area metropolitana di Pescara si torna in classe con i cantieri aperti Francavilla lavori antisismici non sono ancora terminati alla media di via Zara da lunedì 19 scuola bus gratuito e poi Palazzo Sirena si riaccende lo scontro politico tra maggioranza e opposizione pagina dell'Alta Val Pescara e dell'area Vestina Popoli comitato cittadino a difesa dell'ospedale a bussi sul Tirino ristretto il sito da bonificare via libera a nuove industrie appenne scuola giardini si torna in classe giovedì in basso vedete tocco da Casauri a forla per la Madonna di Fatima tre giorni di celebrazioni e incontri a tema per l'arrivo della statua e poi il concerto dell'amicizia il coro di Picciano a Rovigno canta per le vittime del sisma pagina di Chieti l'alimonti venduto per sei milioni anche il molino di Ortona con trenta dipendenti va ad una società del gruppo Casillo che ha già rilevato lo stabilimento romano e poi a Chieti fiamme al policlinico vanno a fuoco faldoni al sesto livello forse per un mozzicone e poi in basso Lanciano è malato di videopoker riassunto singolare sentenza da ragione ad un dipendente comunale sospeso abbasto pendolari 12 nuovi bus per viaggiare fuori città siamo arrivati alla pagina dell'Aquila del centro teme di perdere il lavoro e si toglie la vita il trentottenne credeva che non sarebbe stato più riassunto da una cooperativa oggi l'autopsia e domani mattina i funerali e poi indicato dalla commissione del consiglio superiore della magistratura Michele Renzo sarà il nuovo capo della procura dell'Aquila e poi usura 9 arresti ed 11 denunci a Sulvone abbiamo visto il servizio in basso Tagliacosso usa Facebook e torna in carcere era ai domiciliari e poi gole di Celano storcato da un infarto in montagna ieri l'addio all'ex alpino Colangelo di Etrasacco colto da un malore proseguiamo siamo alla pagina di Teramo del centro ustionato dalle fiamme del forno a legna grave 61enne teramano per accendere il fuoco ha usato l'alcol lui stesso ha chiamato i soccorsi è stato trasferito all'ospedale di Cesena e poi un arresto per tentata rapina di una prostituta contro guerra e poi a Teramo lasciati in strada due ragazzi autistici pasticcio tra Asle e Comune erano all'Aquila per le cure ma il pulmino per riportarli a casa non c'era e poi in basso BCC dell'Adriatico il PM chiede il processo Mociano indagati i vertici dell'istituto inchiesta scattata dopo la denuncia di una imprenditrice siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere come vi dicevo il quotidiano la città che affronta ovviamente tematiche che riguardano soprattutto Teramo e Teramo provincia partiamo dalla prima pagina ustionato dalla benzina sul fuoco sessantunelle di Villa Ripa in gravissime condizioni voleva cucinarsi un pollo nel forno a legna questo è il titolo principale dell'edizione oggi in edicola della città vediamo le pagine interne Abruzzo sospesa l'apertura della stagione di caccia i giudici del Tar bocciano il calendario venatorio della regione dopo il ricorso presentato dal WWF e poi economia per Istat ed Alfonso l'Abruzzo riparte 28 mila nuovi occupati in un anno in basso la cronaca creavano aziende fantasma per i fondi da usare nello strozzinaggio 9 arresti e 11 denunce a Sulmona nell'operazione dei carabinieri psicosi scuole sicure l'82% non è a norma di sicurezza Teramo è la provincia messa peggio secondo i dati del Ministero oggi i genitori incontreranno il sindaco e poi in basso l'avvertenza venerdì sciopero degli addetti alle pulizie nelle scuole vedete ancora si parla di problemi che riguardano le strutture scolastiche della nostra regione in particolare in questo caso della provincia di Teramo colonnella la minoranza chiede più informazioni ma le scuole sono tutte ok in basso chiesetta di San Giuseppe Teramo Nostra diffida la soprintendenza ancora scuole sicure tre falsi problemi sul no al polo scolastico viabilità e parcheggi alveo del fiume e capienza in città se ne discute ma è tutto già spiegato nel progetto e poi Montorio la burocrazia mette a rischio la ricostruzione il rilievo dei nuovi danni agli aggregati blocca e rallenta i cantieri del terremoto del 2009 ormai pronti a partire e siamo ancora a Teramo in questo caso la cronaca ritroviamo l'argomento della prima pagina di apertura della prima pagina del quotidiano la città ustionato dalla benzina spruzzata nel forno a legna 69enne di Villa Ripa gravissimo dopo l'esplosione causata da un ritorno di fiamma e poi ambiente il WWF si appella alla provincia sulle trivelle presenti il ricorso al consiglio di stato e poi i quartieri a Campofiera sono i bambini a pulire i giardinetti e poi a Teramo autocentra il muretto e si ribalta in via Po illesi fortunatamente il conducente del passeggero che si trovavano sull'auto il prefetto salvi le guardie mediche il sindacato dei medici italiani chiede un intervento per tutelare il diritto alla salute dei cittadini e poi anche la provincia nel consorzio Gal della Costa Blu andiamo ancora avanti siamo alla cronaca che arriva dalla Valle Vibrata prostituta bastonata da quattro clienti concordano prestazioni sessuali e poi l'aggrediscono e la rapinano un arresto a controguerra e poi Civitella del Tronto cittadini in lacrime l'ultima messa di padre Lorenzo Tortoreto domani il Tar decide sul ricorso del Manacara pagina di Giulianova Mosciano petizione per far restare Don Domenico i parrocchiani non vogliono perdere il parroco trasferito dalla diocesi Don Panetta ha annunciato senza preavviso di trasferirsi a Morrovalle per raggiungere il fratello poi cronaca nuova ondata di furti tra le villette di Mosciano e Giulianova rientro a scuola senza intoppi per gli studenti di medie ed elementari e poi Sassaiola contro i tifosi della Santa a fine partita a Mosciano danni alle automobili dei vibratiani scortati dai carabinieri fino all'autostrada Silvi sul tavolo 6 milioni di opere pubbliche villaggio del fanciullo con teatro e sistemazione delle strade grazie al lavoro negli uffici del Regione in basso a Pineto i più grandi esperti di microorganismi a Villa Filiani da domani a venerdì il congresso nazionale organizzato dai docenti dell'Università di Pisa e di quella di Camerino e poi il Cerrano si illumina con i lampi di genio nel cortile della torre l'accensione di una lampadina grazie all'energia senza fili la cultura ecco la scuola che insegna la moda l'Istituto di Pescara l'ITS di Pescara forma le nuove professionalità del settore in aula e in azienda in basso quadri e versi alla fortezza di Civitella del Tronto sabato incontro con Fabiola Murri e il suo armadio di Pandora siamo alla pagina dello sport si parla ovviamente del Teramo sul quotidiano la città Zauli vara il ritorno alla difesa a tre mini rivoluzioni in vista della gara di questa sera con il Modena con questo modulo i ragazzi si sentono più sicuri Campitelli lo sento per mezz'ora ogni giorno dice il tecnico del Teramo che noi andiamo ad ascoltare è una partita dove noi vogliamo arrivare a questa vittoria che ci darebbe sicuramente serenità autostima in questo momento del campionato quindi veniamo da una sconfitta seppur con una buona squadra veniamo da una sconfitta quindi è chiaro che la partita successiva a una sconfitta va giocata come abbiamo giocato un po' col Bassano con quella determinazione migliorando ancora di più la partita di la prestazione di Bassano quindi vogliamo vogliamo subito riapprocciarci con la mentalità giusta per ottenere tre punti che ci darebbero sicuramente tanta autostima abbiamo la defensione ancora di De Paolo Antonio abbiamo Carraro che insomma non è al 100% anche se sarà convocato quindi qualche problema numerico ce l'abbiamo soprattutto a centro campo è arrivato adesso Stef è da qualche giorno con noi quindi sì 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 e quindi vedremo però cercheremo di dare continuità assolutamente e comunque io sono stato scelto sono stato scelto qui a a Teramo perché comunque ero stato apprezzato per quello che ho fatto l'anno scorso a Sant'Arcangelo ogni anno funziona così un giocatore gli viene rifatto il contratto perché fa bene quindi a me era stato apprezzato il calcio che facevamo l'anno scorso a Sant'Arcangelo era un calcio aggressivo ho provato a farlo qui chiaramente non ci sono i giocatori con le caratteristiche che avevo a Sant'Arcangelo quindi questo siamo in una fase è compito mio cercare la soluzione giusta è chiaro che i tifosi i giocatori stessi si aspettano che la soluzione arrivi il prima possibile perché trovare la dimensione giusta di una squadra è il primo tassello per arrivare ai risultati oggi siamo una squadra completamente nuova ero venuto io per cercare di portare il mio tipo di calcio che l'anno scorso mi aveva dato certezze e ci siamo resi conto che comunque con qualche giocatore ha altre qualità ma non quelle della grandissima aggressività stiamo cercando di trovare siamo lì tutti i giorni per pensare di trovare la quadratura giusta per poterci giocare le partite non rischiando tanto come stiamo rischiando in queste partite creando le occasioni anche che stiamo creando perché sono discrete è chiaro che i ragazzi che sto allenando quest'anno sono abituati con quel modo di giocare probabilmente sono più abituati si sentono più sicuri quindi è una soluzione che ci può stare abbiamo ascoltato dunque il tecnico della formazione bianco-rossa Lamberto Zauli andiamo a vedere le pagine dello sport del quotidiano il centro la prima pagina sport nazionale Napoli in Ucraina Sarri vuole carattere non sarà facile l'impegno con la Dinamo Chieff e poi la Serie A perché ieri sera e questo ovviamente è un risultato che interessa indirettamente il Pescara si è giocato il posticipo con la vittoria dell'Empoli sul Crotone con il risultato di 2-1 le reti al 31esimo Bellusci per il vantaggio dei Toscani al 47esimo del primo tempo il pareggio di Sampirisi per i crotonesi nella ripresa all'undicesimo il gol vittoria per la formazione toscana di Costa dunque Empoli che batte il Crotone per 2-1 Crotone che resta in fondo alla classifica 0 punti e siamo proprio alla pagina che riguarda il Pescara Pescara strappa elogi ma ora cerca concretezza dopo la sconfitta con l'Inter e poi vedete nell'altra pagina il portiere Bianca Azzurro Bizzarri il Pescara ha già un leader e poi si parla ovviamente si guarda già all'attesa sfida di sabato alle 18 allo stadio olimpico con la Lazio in attacco l'ex pescarese immobile biglietti già in vendita per la gara con i bianco celesti del presidente Lotito e siamo proprio alla pagina relativa invece alla Lega Pro abbiamo appena ascoltato Zauli cambia il Teramo il tecnico bianco rosso per volare vediamo grazie alla grafica qui dalla pagina del centro quali sono le gare oggi in programma Bassano Virtus Sud Tirol Fano Padova Feralpi Salò Lumezzane Forlì Albinoleffe Gubbio San Benedettese Maceratese Ancona Mantua Pordenone Parma Venezia la sfida più attesa Reggiana Sant'Arcangelo e Teramo Modena che inizierà alle 18.30 si giocherà al Bonolis agli ordini del signor Strippoli di Bari vedete anche la classifica con il Teramo l'Ancona il Fano e la Maceratese ad un punto il Forlì ancora a zero il Modena formazione Canarina questa sera di scena a Teramo con due punti e poi andiamo a vedere le altre pagine dello sport in particolare quella che riguarda la Serie D le sei sorelle Avezzano Cinico e subito da Primato due vittorie su due gare per i Biancoverdi e poi si parla delle altre formazioni abruzzesi il San Nicolò che ha vinto il derby di Chieti poi la vittoria dell'Aquila a Foligno il pareggio i due pareggi amari per Pineto e Vastese che erano in vantaggio fino a pochi secondi dal termine poi i calendari della prima categoria resi noti proprio dalla FIGC Abruzzo andiamo a vedere a questo punto le pagine dello sport del messaggero Pescara quanti rimpianti Biancazzuri ancora convincenti sul piano del gioco ma pesano sul risultato le troppe occasioni da gol fallite basti pensare a quella di Verre nella sfida con l'Inter sul risultato di 1-0 da limitare gli errori individuali nella fase difensiva ora un ciclo verità contro avversari più abbordabili bizzarri una sconfitta dice il portiere Biancazzuro che servirà da lezione tifosi pronti per la trasferta a Roma e poi sotto a fondo pagina vedete Verratti Bebec questo è solo l'inizio una grande gioia vederlo segnare sono convinto che all'Adriatico diventerà un idolo giocatore francese al Pescara raccomandato proprio da Verratti Teramo contro il Modena Zauli fa una rivoluzione e poi parliamo di Serie D Paris Lavezzano in testa va bene così un primato nato dalla difesa nessun gol subito in gare ufficiali tra campionato e Coppa Lavastese rimpiange l'occasione sprecata 4-4 sul campo del San Marino e poi Epifani San Nicolò dobbiamo imparare la lezione parla il tecnico Bianco Celeste dopo la vittoria di Chieti Morgia L'Aquila bello vincere quando si è in emergenza poi il Chieti avvio terribile ma era prevedibile pesa molto il ritardo di preparazione fatali i secondi tempi e poi il Pineto ammazzalorso errori fatali ma il Pineto mi soddisfa parlando del campionato di promozione Giulianova si accende abbonamenti prorogati il patron Bartolini dice sono contento perché tutta la tifoseria ha capito l'impegno profuso dalla nuova società per risalire e poi vedete altri titoli che riguardano il rugby l'Aquila ha ancora un successo superato il Tarvisium per 17 a 7 poi basket e podismo in particolare nella K42 l'argentino Simon supera Di Paolo e Giacomini siamo in conclusione ma abbiamo un secondo di tempo per vedere i titoli parlando e restando lo sport i titoli dei principali quotidiani nazionali sportivi oggi in edicola partiamo dalla Gazzetta dello Sport Juve da finale Napoli sorpresa si parla di Champions League al via le gare con le italiane in corsa e poi fenomeno Icardi superato Ronaldo due gol a Pescara per l'attaccante Nerazzurro sfuriata Montella processo al Milan e poi Retotti la Roma ora apre al rinnovo siamo al corriere dello sport polveriera Milan vedete il titolo in alto la seconda sconfitta consecutiva ha aperto la crisi rossonera Montella furioso alza la voce niente alibi fuori il carattere e poi vi vogliamo così la Juve all'assalto i grandi ex sicuri dopo vent'anni è l'ora del trionfo e a proposito di Champions League il Napoli a Kiev da padrone e poi Totti ingombrante Spalletti che errore e poi vedete vince Lempoli il Crotone resta fermo a zero punti due a uno nel posticipo di ieri sera al Castellani tra Toscani e Calabresi infine tutto sport nostra inchiesta in esclusiva ecco la città della Juve si parla proprio dello stadio e di tutto il village che sorgerà attorno allo stadio allo Juventus Stadium dove gioca la formazione bianconera e siamo così giunti al termine con i titoli dei quotidiani nazionali sportivi oggi in edicola grazie come sempre per averci seguito vi ricordo il primo appuntamento informativo anzi il secondo in questo caso appuntamento informativo della nostra rete alle 14 con la prima edizione del TG6 grazie e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti